Alessandra, tu fai parte del team Terra di Mezzo, che tipo di lavoro state facendo? Allora, con il mio gruppo ci stiamo occupando di un progetto sempre in ambito di Ascolare di Open Coesione che tratta della Libera Terra Crotone, che praticamente parla dei beni confiscati all'Andrangheta. E che cosa è emerso da questo lavoro? Allora, noi abbiamo analizzato i dati relativi appunto a questi territori che sono stati confiscati all'Andrangheta e abbiamo visto come questo fenomeno comunque è abbastanza radicato all'interno del nostro territorio e come comunque noi, la forza giovanile, riuscirà a cambiare qualcosa. Noi crediamo che comunque solamente facendo trasparire la conoscenza o comunque leggendo approfonditamente i dati e entrando in appunto a conoscenza possiamo cambiare qualcosa. Un vero e proprio monitoraggio è quello che avete fatto? Assolutamente sì, infatti nei prossimi report poi ci muoveremo anche all'interno della popolazione per vedere comunque a che livello sta la popolazione stessa e quanta conoscenza c'è di questo fenomeno all'interno del territorio stesso. Oggi si parla di coesione, si parla di progetti e voi come studenti avete puntato l'attenzione, grazie anche ai dogenti, sulle terme di Cotronei. Sì, diciamo che è una risorsa su tutto il territorio, come sappiamo c'è poca vocazione termale e questo qua deve diventare uno dei punti di forza del nostro turismo per farlo collegare anche a tutti gli altri.